Ultimi atti prima della discussione del bilancio in Consiglio regionale, prevista a partire da domani pomeriggio. Oggi, giornata di audizioni degli assessori in Commissione bilancio e, in attesa dell'arrivo del parere dei revisori dei conti, l'opposizione fa l'analisi del bilancio di previsione 2022-2024. Un documento illegittimo senza il piano di rientro su disavanzo, dice l'opposizione. Non è stato fatto il taglio delle imposte come promesso. Le risorse ricavate dalle cartolarizzazioni sono state spese per le leggi Omnibus e il debito in sanità fa registrare un disavanzo di 100 milioni di euro e un'esplosione nella mobilità passiva. Vale a dire che gli abruzzesi vanno a curarsi fuori regione. Illegittimo perché mancano gli atti propedeutici all'approvazione del bilancio, il piano di rientro previsto dalle norme. Inoltre è un bilancio lacunoso per tanti altri aspetti. È enorme il passivo della sanità. Esplode la mobilità passiva. Nonostante le tante risorse in più, moltissimi abruzzesi vanno purtroppo fuori regione a farsi curare. I costi emergono con una mobilità passiva che esplode e il cui saldo sfonda il tetto dei 100 milioni di euro. Taglia ancora il trasporto pubblico. Debiti fuori bilancio all'orizzonte, nel frattempo si finanziano senza leggi autorizzative spese come il Napoli Calcio. Avevamo ragione noi quando denunciavamo che vi era una spesa all'orizzonte di 14,4 milioni di euro per il Napoli Calcio e così è. Rispedisce al mittente l'accusa di illegittimità del bilancio l'assessore al lavoro Pietro Quaresimale. Un bilancio fatto regolarmente, quindi sono notizie infondate, quindi io ritengo che possiamo essere soddisfatto di questo bilancio che è stato redatto. Sul lavoro dobbiamo dare risposte per quanto riguarda le varie crisi aziendali, quindi stiamo mettendo in campo una serie di misure che tendono a incentivare le assunzioni di over 50 disabili donne e giovani. E soprattutto voglio mettere in campo delle misure per far sì che le aziende siano incentivate a mantenere i livelli occupazionali viste le crisi in essere. Designati intanto dalla Regione Abruzzo i grandi elettori per il Presidente della Repubblica nel prossimo mese di marzo. Marco Marsiglio e Lorenzo Sospiri per la maggioranza, Sara Marcozzi per le opposizioni. Certamente è una grande emozione, il senso di responsabilità è grande ed è un grande onore partecipare all'elezione del Capo dello Stato. È comunque davvero un onore e spero di poter rappresentare l'Abruzzo, gli abruzzesi e il Consiglio regionale al meglio. Grazie. 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 Grazie.